Salve a tutti amici e benvenuti a un nuovo video. Oggi finalmente torniamo in Belli, si ritorna a seppie. Prima sessione della stagione ad edging, vediamo un po' che esce, ormai settembre è arrivato, ha messo un bel vento da gregale, da terra proprio, e proviamo un po' a vedere che succede. Mare, forza olio, l'acqua abbastanza limpida, quindi le condizioni dovrebbero essere quelle ottimali. Calo il diper, calo l'ecoscandaglio. Ok diper in acqua, mettiamo la frizione. Allora, viste le condizioni di sole pieno, luce molto alta e acqua limpida, provo subito con un colore molto naturale, molto realistico, e con una base di colore silver. Misura 3, se non avrò risultati proverò sicuramente con una 2,5. Primo lancio. Ok diper collegato, siamo a 3,4 metri di fondo e adesso provo a uscire fuori. Oggi proverò a pescare anche abbastanza profondo, tra gli 8 e 10 metri. Speriamo di essere fortunati, è presto, però un tentativo, oggi ci tenevo a farlo. Viste le condizioni, volevo provare. Sicuramente saranno piccole le seppie, però chissà che non ci riservi una sorpresa questa giornata. Questa che c'è? Eccola! Eccola! Piccolina! Eh, piccola piccola! Prima seppia della stagione! Eccola qua! Bellina che sei! Eccola qua! Un biscottino! Che carina! Con queste seppioline è dovuto il rilascio. Adesso le rilasciamo subito. scappottato. Prima seppia è arrivata. Come immaginavo era piccina. Stiamo sui 5 metri, e mezzo. Adesso continuiamo a provare su questa profondità. Magari è quella giusta e se non arriva nient'altro, andiamo più fuori. Vediamo un po' che succede. Quindi tra i 5 e i 6. cerco di stare il più possibile a contatto con il fondo. Cerco anche di strusciare leghi sulla sabbia. Tenendolo sempre in tiro e poi alternando questo recupero a due gercate. Niente, sono arrivato a 8 metri, però non mangia più niente. Dobbiamo rifarcela verso sotto. metto a 5 metri, 5 metri e mezzo. Speriamo anche in parallelo. Eccola! E questa è pure più carina. Questa mi sa che è anche più carina. Andiamo un po'. Eh! Questa è già più carina rispetto a quella di prima. Forse è solo un'impressione. È piccolina, è piccolina. È arrabbiata. È arrabbiata. Ah, è un pochino più grossa. Meno male. Eccola. Seconda di giornata. Un filo più grossa. Ci ha fatto neri. Ci ha fatto neri. Va bene, riproviamo. Macchiati. Riproviamo a vedere se arriva qualcun'altra. Perfetto, ragazzi. Il video si conclude qua. Oramai il termico è diventato decisamente troppo forte e non si riesce più a stare in pesca con il bello. Per cui si rientra. Comunque sarà una mattinata divertente, abbastanza fruttuosa, ricca di schizzi oltretutto. E quindi va bene così. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, lasciate un like e commentate. Alla prossima! Ciao!